Emanuele, come sei? dove sei da Emanuele? dove sei da Emanuele? dove sei da Emanuele? dove sei da Emanuele? in quale città? Manchester, molto bello e quanto anni sei? 9 anni puoi parlare? scusami, puoi aiutare il tuo figlio? è molto schifo puoi aiutare? vieni, vieni, aiuto senti Emanuele, cambiamo l'italiano che ti senti poco pratico vuoi che parli in inglese parla un po' in inglese di qualcosa va in tv si te l'ho detto in realtà già in diretta in questo momento su facebook dunque dimmi una cosa ti è piaciuta questa festa? te lo ricordo il parco dei mostri dove sei stato prima ma chi è questa bellissima ragazza? chi è lei? Camilla tua parente tua fidanzata tua moglie cugina perché non sei sposato o si? no perché magari in UK voi lo fanno diverso certo? magari sei casato quando sei 9 o qualcosa non lo so non lo so non lo so abbiamo un figlio qui veramente? non lo so non lo so non lo so non lo so ti ho detto ti ho detto salutala 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 dai che senti vu io ti amo io ti amo tanto ti amo tanto vai perla vai perla senti senti dimmi che cosa vedi dai dai dimmi qui che abbiamo? due bambine gli scacchi no? di là invece guarda che casino è successo di là l'arte le cose la musica il dj laggiù i fiori ti piace? sei sicuro? ci ritorni qui a Bomarzo? ok domani a posto siamo a posto Emanuele thank you very much Camilla grazie mille grazie